Cade il reato di strage contestato a due esponenti della stiglia gelese incriminati nel giugno del 2008 nell'ambito dell'inchiesta antimafia Orfeus. A vederselo scrollare dalle spalle sono stati Salvatore Di Maggio, esponente di spicco del clan, e Nicola Liparoti, entrambi sospettati di essere stati tra gli artefici dell'incendio dello stabile di Via Cartagine nel quale vivevano 8 persone, compiuto nel novembre del 2005. Un attentato si ritenne compiuto per punire i residenti che avevano avuto da ridire sulla presenza sotto casa di gruppi giovinastri che erano soliti spacciare sostanze stupefacenti. Una missione punitiva costata ai due, nei primi due gradi del giudizio, la condanna per strage. Un'ipotesi accusatoria ora venuta meno a seguito della pronuncia dei giudici della Corte Assisa d'Appello di Catania, alla quale erano stati rinviati gli atti della Cassazione che nei mesi scorsi ha annullato ad entrambi la condanna per strage. Nel novembre 2005 gli imputati, dopo essersi introdotti all'interno dell'appartamento del piano terra dello stabile, secondo l'accusa diedero fuoco alle suppellettili mettendo in pericolo la vita dei residenti. Gli inquilini, tra i quali donne e bambini, quando fuggirono verso il portone lo trovarono bloccato dall'esterno e riuscirono a salvarsi solo sfondandolo con diverse spallate. Qualche giorno dopo sul portone venne rinvenuta la scritta «Chi è qui è morto». Le indagini della squadra mobile di Caltanissetta sono state coadiuvate anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Benedetto Zuppardo, Marcello Orazio Sultano e Salvatore Cassarà. Il processo d'Appello bis si è concluso con l'assoluzione dei due dall'accusa di strage, ma sia li paroti che di maggio sono stati riconosciuti colpevoli dell'incendio allo stabile e per questo condannati. La Corte Assisi ad Appello di Catania nel riformare la sentenza e due li ha condannati a cinque anni ciascuno ma solo per l'incendio. I loro avvocati difensori hanno dato battaglia per far scollare l'accusa di strage ai propri assistiti. Già dopo il verdetto di primo grado presentarono ricorso in appello e successivamente la Cassazione annullò il verdetto di secondo grado e messo a carico dei due imputati rinviando gli atti ad un'altra sezione d'Appello per una rivisitazione della posizione dei due. L'inchiesta fu eseguita dalla polizia Gela il 20 giugno del 2008. Nel blitz finirono in carcere sette persone.